Servizi di controllo del territorio intensificati da parte del comando provinciale dei carabinieri di Arezzo in coincidenza del periodo estivo. In quattro sono finiti in manette, 19 le denunce e otto le multa a prostitute e clienti. In Val D'Arno è stata scoperta una vera e propria baby gang, dedita ai furti, in manette due minorenni, uno della provincia di Napoli e un marocchino, entrambi residenti in Val D'Arno, mentre altri tre, sempre minorenni, sono stati denunciati. I militari li hanno sorpresi intorno alle 2.30 di sabato scorso, mentre stavano ripulendo un'abitazione in San Giovanni Val D'Arno, erano riusciti a portare via apparecchi elettronici a 6.000 euro in contanti. L'arresto ha impedito che con l'auto della vittima riuscissero a trafugare anche altri due televisori. Un 37enne del Casentino è stato arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio e di sostanze stupefacenti. È stato sorpreso in una zona boschiva mentre annaffiava tre piante di marijuana, di oltre due metri ciascuna. Nell'abitazione sono stati poi sequestrati 11 barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 80 grammi. Infine ad Arezzo è stato arrestato un 41enne residente ad Arezzo, nei cui confronti il 29 luglio scorso l'ufficio di sorveglianza di Firenze aveva emesso un'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari. Tre denunciati un minorenne accusato di ricettazione perché sorpreso a bordo di un ciclomotore rubato, un 26enne ed un 32enne rumeni denunciati per furto perché fermati a bordo di un'autovettura, erano stati trovati in possesso di circa 200 kg di cavi di rame stipati sui sedili posteriori e nel bagagliaio rubati ad un'azienda dell'Aretino. Un 18enne rumeno dovrà rispondere di falsità materiale, una 21enne rumena invece fornito falsi identità, un 40enne retino aveva nell'auto semi di canapa indiana e a casa custodiva invece 15 piante di marijuana, denunciato anche lui. Denunciati anche un 37enne, un 31enne ed un 29enne rumeni residenti in Valdichiana per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, sulle persone, lesioni personali, ingiuri e violenza privata, minacce e danneggiamento. Lo scorso 7 luglio hanno dato letteralmente in escandescenza in un bar della Valdichiana distruggendole su pellettile, aggredendo il gestore e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. 4 gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebrezza e 2 segnalati alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Infine sono 8 le multe a prostitute e clienti nelle zone luci rosse della città in rispetto all'ordinanza del comune di Arezzo.